Musica Vediamo subito il sommario di Occhio alla Notizia. Aumentano i decessi nelle marche per coronavirus, assai le vittime nelle ultime 24 ore e rimane alto il numero dei contagi più 29 pazienti in semi-intensiva. Il grido di dolore dei lavoratori dello spettacolo si tina ad Ancona per chiedere un intervento urgente di governo e regione. Evitaci le spese perché non ce l'abbiamo più i soldi per anticipare, per poi avere il rimborso. Io non ce l'ho più, non so dove prenderli. Il Covid mette in ginocchio le strutture alberghiere a Pesaro, presenze in calo del 50%, strutture che chiudono i battenti. Grandi vantaggi con il bonus vacanza richiesto per tutto il 2021. Halloween, l'appello del prefetto La Polla e del sindaco Massimo Seri. Evitare feste in casa e assembramenti serve responsabilità per non mettere a rischio la salute collettiva. Si aggira il pincio con un coltello di 15 centimetri minorenne denunciato dalla polizia a monte a tre giovani senza mascherina. Negozio sulla Flaminia nel mirino dei ladri. Continua la scia di furti nel Fanese. Portate via in piena notte 16 biciclette. Discariche a cielo aperto e degrado alla trave lungo la passeggiata dell'Isippo. Le segnalazioni dei reporter di strada di Fano TV. Buonasera e benvenuti sul canale 17 per occhio alla notizia in apertura il Covid. Dopo i quattro decessi avvenuti ieri nelle Marche legati al coronavirus, nelle ultime 24 ore se ne sono verificati sei. Avevano tutti patologie pergresse. All'ospedale di Ascoli Piceno sono morti un anziano di 83 anni, residente a Folignano, e una signora di 74 anni di Venarotta, Ascoli Piceno. Nell'annoso comio di San Benedetto del Tronto sono deceduti una 76enne del posto e un uomo di 86 anni di Monte San Pietrangeli. A Senigallia invece ha perso la vita un anziano di 87 anni di Arcevia, mentre a Pesaro è deceduta una signora di 85 anni, residente a Sasso Corvaro. Si conferma alto il trend dei contagi. Nell'ultima giornata sono stati rilevati 524 positivi su quasi 2.000 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi, il 26,6%. Ancona rimane la provincia con il maggior numero di casi, 220, seguita da Macerata, 117, Ascoli Piceno 62, Fermo 49, Pesaro Urbino 44 e 32 arrivano da fuori regione. Ci sono 15 ricoverati in più per Covid-19. In totale sono arrivati a 301. È stabile il dato dei degenti in terapia intensiva, 39, ma è un aumento quello dei pazienti in subintensiva, da 52 a 81, più 29 rispetto a ieri. Superano i 5.000 positivi in isolamento. In calo invece i soggetti isolati in casa per contatto, che sono più di 9.400, di cui 402 operatori sanitari. La nostra regione sta affinendo le sacche di plasma iperimmune per curare i malati, che purtroppo sono in aumento, come avete sentito. Per questo l'Avis di Fano lancia un appello per chiedere a tutte le donatrici e i donatori che sono stati positivi al Covid e che godono attualmente di buona salute, di contattarli per una donazione. Il centro trasfusionale ha comunicato alcune esclusioni. Non avere più di 65 anni e non aver avuto una gravidanza. Rimane attiva l'entrata esclusiva al trasfusionale di Fano per garantire la piena sicurezza. E oggi anche i lavoratori dello spettacolo sono scesi in piazza, in diverse città italiane, per chiedere aiuti concreti a questa categoria. Stamattina abbiamo raccolto la testimonianza di un regista e formatore teatrale dell'Accademia di Fano. Nello stato d'animo è sotto i piedi, ovviamente. Sono mesi da marzo che noi subiamo e non riusciamo a tirarci fuori la testa. Mentre l'Italia si è fermata a metà, l'industria della cultura e dell'intrattenimento è priva di prospettive, nonostante il sostanziale contributo al PIL. L'incertezza colpisce soprattutto il mondo della musica, del cinema e del teatro. L'impressione che si raccoglie sui social e nei gruppi creati dalle maestranze e dello spettacolo è che il settore sia considerato un comparto di serie B. Sono in difficoltà non solo artisti, cantanti e ballerini, ma anche chi lavora nell'indotto, attrezzisti, montatori di palchi e service. Forse molti non sanno che le strutture come le nostre che fanno arte non sono un ristorante, un bar che per carità con tutto il rispetto quando si riapre aprono la sala cinesca e in qualche modo ricominciano a partire piano piano con tutte le difficoltà e tutte le spese. La gente da noi non viene, non si riavvicina. Noi se tutto ci va bene, se va bene per l'Italia, riapriremo dopo, a gennaio, perdendo la prima settimana. Però i mesi li andiamo a pagare uguali, le bollette le pagheremo uguali. Dopo il lockdown abbiamo riaperto a fine maggio, ci ha raccontato Edoardo Frustaci, formatore teatrale dell'Accademia dello Spettacolo. A giugno poi il centro chiude, ha proseguito e quindi per soli 30 giorni le persone non sono venute. È come se per sei mesi non avessimo lavorato, ma le spese sono sempre rimaste le stesse. Abbiamo veramente fatto di tutto per essere a norma. Se entri, come avete visto anche voi, sanificati i piedi, le mani, presa la temperatura, tutto ciò che il covid è giusto, perché è una cosa che fa paura questa roba qui. Adesso noi abbiamo riaperto. Io ho dovuto personalmente, come Presidente dell'Associazione, assumermi un debito personale su di me, con la banca, per pagare i mesi arretrati. Ora, i mesi arretrati, ho chiesto il rimborso, ma io ho ancora giugno, luglio, agosto da mettere a posto. Dopodiché, settembre apriamo, dopo tutti gli sforzi, avremo speso intorno agli 8-9 mila euro, non dico fesserie, perché tanto penso di aver speso poco rispetto ad altri. Ci ritroviamo a ottobre, di nuovo chiusi. Considera che io faccio l'attore, non ho fatto uno spettacolo tutta la stagione, non ho incassato neanche io a livello personale, perché un conto è l'associazione, un conto è io personalmente. Quindi, ho campato fino adesso con quello che avevo guadagnato prima, non ho più fatto spettacoli, l'associazione non funziona, in più mi sono indebitato io. Adesso ripartiamo e ci bloccano di nuovo. Anche i lavoratori dello spettacolo delle Marche questa mattina sono scesi in piazza. Ad Ancona hanno manifestato per chiedere al governo e alla regione un intervento urgente sul settore. Il sit-in si è svolto in contemporanea con altre città italiane per unire, nello stesso momento, tutto il paese. Mandate l'aiuto a chi deve prenderli i soldi, cioè il mio padrone di casa per esempio, che lui abbia un rimborso al mio mancato pagamento dell'affitto. Cioè questo è il problema, l'attenzione non deve essere porta verso di noi al rimborso delle nostre spese. Evitaci le spese perché non ce l'abbiamo più i soldi per anticipare, per poi avere il rimborso. Io non ce l'ho più, non so dove prenderli, ho già fatto un presto in banca, un altro non me lo danno. Il coronavirus ha messo in ginocchio anche il turismo e le strutture ricettive. A Pesaro, settore alberghiero, registra un netto calo di presenze. Il servizio di Angelica Panzieri. Quest'anno il coronavirus ha messo in ginocchio anche il settore alberghiero. Da fine maggio, a metà settembre, si è registrato almeno un 50% in meno delle presenze e alcuni alberghi non hanno potuto nemmeno riaprire. Tutti i dettagli nel servizio che abbiamo preparato. Il coronavirus mette in crisi gli hotel e in genere tutta la filiera del settore turistico. Bilancio Amari per la stagione 2020, che proprio a causa della pandemia, ha fatto registrare un forte calo di presenze negli alberghi. Oltre il 50% in meno da fine maggio, a metà settembre. E ad ottobre, in diversi hotel pesaresi, sembra essere calato il buio. Nessuna prenotazione né richieste di preventivi, anche per via della mancanza di manifestazioni, di carattere sportivo e non. Prospettive amare anche per i prossimi mesi. Le iniziative natalizie, come i mercatini, sono state sospese dal sindaco Matteo Ricci e così gli alberghi rimarranno vuoti. Insomma, una stagione difficile, quella del 2020, in cui gli unici benefici di cui hanno potuto godere diversi albergatori sembrano essere quelli legati ai bonus vacanza. Il vacanziere di norma del bonus vacanza era un vacanziere che faceva la vacanza breve. Addirittura, al momento di chiedere i preventivi, chiedevano quanti giorni di vacanza riuscivano a fare col bonus vacanza arrotondato. È un fatto positivo. Federalberghi ha chiesto l'estensione anche per tutto il 2021, considerando anche che di fondi ne sono avanzati tanti, perché in realtà nemmeno il cittadino potenziale turista ha capito bene il funzionamento, perché sono stati sfruttati per il 20%, o forse, pur sapendolo, ha preferito risparmiare i soldi e quest'anno andare in vacanza. E quindi, diciamo, la giudicherei come un'esperienza positiva. Quanti hotel a Pesaro per via del Covid sono rimasti chiusi? A Pesaro sono rimasti chiusi solo quattro alberghi su 45, e quindi direi un numero eseguo, anche se sono alberghi importanti, perché tre di questi insomma avevano un numero considerevole di camere. Tre mesi siamo stati chiusi, marzo, aprile e maggio. Io ho sei alberghi, quattro sono tenuti tutti chiusi, due non ho potuti chiudere perché c'erano i medici e gli infermieri, uno a Pesaro e a Norbino, e ci abbiamo rimesso ancora di più perché avevamo i prezzi bassi e pochi clienti. E quindi è stata una tragedia fino, oltre alla chiusura, anche giugno e luglio perché c'era poca gente, i prezzi bassi. In agosto è andata abbastanza bene, cioè non certo come l'anno scorso, però in base alle previsioni è andata meglio di quello che temevamo. Poi anche a settembre e ottobre sono andati male perché abbiamo pochissima gente, ma è quello che a me dispiacerebbe di più e dover far perdere il lavoro ai miei dipendenti, ai miei collaboratori, a tutti i fornitori, a tutti i manutentori, che sono centinaia, e poi a tutte le loro famiglie. Speriamo di riuscire tutti insieme, senza darci la colpa uno con l'altro, a venirne fuori, questo è il mio augurio. Quest'anno il sindaco Ricci, lo ha comunicato ieri sui social, ha annullato anche le manifestazioni di Natale, non ci saranno più i mercatini, quindi questo potrebbe avere una ripercussione anche sul settore alberghiero. Sì, sicuramente perché in quel periodo lì venivano un sacco di persone per visitare Pesaro in quel periodo là. Un periodo novembre-dicembre in cui di solito l'albergo si riempiva. Sì, si organizzavano dei gruppi, quindi anche Pesaro diventava molto più bella. Ed ora una notizia di poco fa, nelle Marche e le scuole superiori in didattica, a distanza al 100% dal 3 novembre. Lo prevede una nuova ordinanza che il presidente Francesco Acquaroli firmerà domani mattina. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, proseguiranno le lezioni da remoto, quindi didattica digitale integrata appunto al 100%, con la possibilità di svolgere in presenza le attività laboratoriali previste dai rispettivi ordinamenti, le verifiche scritte, ma anche le lezioni per gli alunni con bisogni educativi speciali e per quelli che hanno la difficoltà invece di collegamento telematico dal proprio domicilio. Un provvedimento che assumiamo con la consapevolezza di dover contrastare lo sviluppo della pandemia anche attraverso misure flessibili di insegnamento e questo è quanto ha dichiarato appunto il presidente. E in vista della giornata di Halloween, il sindaco di Fano Massimo Seri lancia un messaggio ai cittadini chiedendo la massima responsabilità per evitare assembramenti e possibili contagi. Un invito, ma che è più di un invito. Domani è la giornata di Halloween e nel nostro paese, anche la nostra città, negli ultimi anni è cresciuta molto. I ragazzini in modo particolare tendono a girare per le vie. Viviamo un momento straordinario e questo dobbiamo essere consapevoli. La curva dei contagi tende a salire e purtroppo l'età tende a scendere. Sempre più sono giovani. Se da una parte teniamo dei comportamenti per ridurre al massimo gli assembramenti, facciamo le lezioni a distanza, non possiamo permetterci di tenere comportamenti irresponsabili fuori. Quindi io mi rivolgo ai ragazzini, ma mi rivolgo anche ai genitori che hanno in questo momento un dovere di responsabilità. Domani teniamo comportamenti irresponsabili. Evitiamo questi assembramenti perché questi comportamenti, ripeto, servono per tutelarci. Per tutelare le persone che abbiamo in casa, per tutelare quelle più fragili, a cominciare da quelli più anziani, perché questo è il tema vero. E allora io capisco, dolcetto e scherzetto ci si diverte, però per una volta non casca il mondo. Cerchiamo di ridurre al massimo gli spostamenti e soprattutto usiamo questa mascherina che è l'elemento principale di protezione che tutti disponiamo. E anche il prefetto di Pesaro Urbino, Vittorio Lapolla, si è unito alle raccomandazioni dei sindaci e invita la comunità a mantenere alto il senso civico, lo spirito di irresponsabilità, evitando forme di assembramento, festeggiamenti in casa e ogni altro comportamento di forme dalle regole anticontagio. Dalla Prefettura fanno sapere che oltre all'azione di controllo delle forze e dell'ordine verrà fatta anche un'opera di sensibilizzazione, appunto non solo da parte dei sindaci, ma anche dalle autorità scolastiche, al fine di scongiurare l'adozione di condotte capaci di mettere a rischio la salute collettiva. Si chiama InfoCovid, lo sportello informativo attivato in via Lombardia 2 a Pesaro grazie ad Age che lo ha promosso in collaborazione con la protezione civile e il patrocinio del comune. I cittadini potranno ricevere informazioni sulle norme da seguire, sulle iniziative di solidarietà, ma anche sui monitoraggi dei tamponi, sulla distribuzione delle mascherine, su come accedere alle giovolazioni e ai bonus dedicati all'emergenza. Il servizio è aperto al pubblico il mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19 e il venerdì dalle 9.30 alle 11.00. Le informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente o tramite e-mail. Ed ora la cronaca. Si aggirava al pincio con un coltello di 15 centimetri. Il minorenne fanese è fermato e denunciato dagli agenti del commissariato di Fano. Sanno montati anche tre ragazzi senza mascherina, al servizio di Letizia Marchionni. È stato riaffidato ai genitori e denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria minorile, il quindicenne che nei giorni scorsi è stato trovato in possesso di un coltello di tipo serramanico della lunghezza di 15 centimetri dagli agenti del commissariato di polizia di Fano. È accaduto in zona Pincio, dove le forze dell'ordine, in collaborazione con la polizia locale, hanno svolto dei servizi di controllo al fine di prevenire la commissione di atti di vandalismo, dispaccio di sostanze stupefacenti e liti, in particolare da parte dei frequentatori del posto, molti dei quali giovani compresi tra i 14 e i 17 anni. Nel corso delle stesse operazioni di vigilanza, altri tre minorenni sprovvisti di mascherine sono stati identificati e accompagnati presso il commissariato, dove sono stati affidati ai genitori, ai quali poi è stata notificata la sanzione di 400 euro. Auto in fiamme a Sant'Anna di Cartoceto, vi mostriamo delle immagini che ci sono arrivate oggi pomeriggio intorno alle 17.30 da un nostro reporter di strada. Dicevo, è successo questo pomeriggio, sentite in questo caso le sirene dei soccorsi che sono giunti sul posto, i vigili del fuoco, fino a pochi minuti fa la squadra era ancora sul posto e quindi non riusciamo nel momento a darvi maggiori informazioni. Magari nel corso della serata vi daremo maggiori dettagli sul nostro sito occhialanotizia.it E adesso diamo sempre spazio alle vostre segnalazioni, partiamo dalla zona sportiva della Trave a Fano, dove un residente denuncia una discarica a cielo aperto, oltre ai tanti altri problemi del quartiere, dalle strade piene di buche ai cartelli fai da te. A parte qui i cartelli li facciamo in casa perché come sempre tutto è abbandonato, qui c'è una discarica a cielo aperto, non si capisce perché non si pulisce mai oppure non si faccia qualcosa, qualche intervento. Inizia così il video pubblicato su Reporter di strada, la pagina Facebook di Occhio alla Notizia dedicata alle segnalazioni dei nostri telespettatori. Dopo averlo visionato questa mattina ci siamo recati sul posto nel quartiere della Trave a Fano e lo scenario che ci si è presentato davanti era ancora lo stesso di quello descritto ieri dal residente. Una bici rotta appoggiata all'albero, cartacce ovunque, pneumatici, pezzi di plastica e stoffa e decine di questi contenitori di vino, vuoti. Una situazione di degrado che come ci dicono va avanti da tempo nella zona sportiva frequentata da tanti fanesi e non solo. Come vedete le strade sono completamente piene di buche, per cui il degrado e l'inciviltà porta alto degrado e altre inciviltà. Io poi per carità, qua ci sono dei ragazzi che giocano benissimo, che vengono a giocare. Anzi, con il lockdown questa qui è una zona che deve essere valorizzata, perché l'abbiamo visto nel precedente periodo, quello di febbraio-aprile, dove qui era pieno di gente, oggi cerchiamo di potenziarla. Giorgio Pucci, presidente dell'AFAQ, all'associazione fanese Amatori Calcio, ribadisce che questo non è un quartiere periferico della città e che quindi dovrebbe avere una maggiore attenzione da parte del comune, a partire dall'illuminazione pubblica che potrebbe disincentivare i furbetti ad abbandonare qui i loro rifiuti. Magari con degli interventi anche minimi. Uno, ripeto, siamo sul via del Frusaglia, per cui una pista ciclabile, lato pista, diciamo, per cui lato mare, si potrebbe iniziare a realizzare, si potrebbe iniziare a fare delle cose, diciamo, molto semplici. Questo dovrebbe in modo di mettere in sicurezza i ciclisti e i pedoni soprattutto. Le altre priorità, aggiunge Pucci, sono l'asfaltatura delle strade, pieni di buche e la segnaletica stradale. Infatti, ad oggi, i due parcheggi non vengono utilizzati. Eppure, con tutte le attività sportive della zona, è spesso pieno di auto, parcheggiate sull'erba e lungo la carreggiata. Come vedete, diciamo, abbiamo fatto un cartello in casa perché non c'è una segnalazione verticale. E qui ci sono delle liti in continuazione. Una macchina passa, l'altra non passa, è colpa mia, è colpa tua. Cioè, per cui potrebbero anche, dato che si parla tanto di abbellire la città, cioè, io un qualcosa farei qui, pianterei due alberi, non so, qualcosina di... Questo è il messaggio, diciamo, che vogliamo dare. La Giunta Comunale di Fano ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del manto sportivo sintetico della pista ad atletica Zengarini. Il progetto sarà presentato per partecipare al bando Sport e Periferie. L'intervento del valore complessivo di circa 600 mila euro riguarda la pista costruita all'interno della zona sportiva trave, nella quale si svolgono soltanto gli allenamenti delle discipline di atletica leggera, perché da anni non può ospitare gare federali e campionati di livello a causa del pessimo stato di conservazione del manto. Con il progetto, che ha ottenuto il parere positivo del CONI, si procederà anche all'acquisto degli arredi. E dal quartiere della Trave al lungomare di Sassogna, perché un altro telespettatore ci ha segnalato il degrado della passeggiata dell'Isippo a partire dall'ingresso ostruito dall'erba incolta. Di turismo, ha detto, qui non c'è nulla. La passeggiata dell'Isippo, uno dei luoghi simbolo di Fano, che però da tempo riversa in condizioni di degrado. Sterpaglia ed erba incolta ai lati della passerella, che viene stritolata dalle reti degli stabilimenti balneari da un lato e dalla siepe del laboratorio di biologia dall'altro, come ci dicono le segnalazioni. La passeggiata dell'Isippo. Questo è l'ingresso. Questo è l'ingresso di questa famosa passeggiata. Se andiamo sul lato delle erbacce e delle reti faticenti che ci sono, rappezzate alla meno peggio, guarda, guardare. Questa è la situazione, la condizione di una passeggiata turistica. Dovrebbe essere turistica, ma di turismo qui non c'è nient'altro che degrado. Veramente brutto. Si stringe sempre di più, vediamo che si stringe sempre di più perché le reti dei campi dello stabilimento balneare sono proprio a ridosso, proprio veramente tutte messe malissimo, a ridosso della passeggiata, adiacenti alla passeggiata. Ma il problema non riguarda solamente l'ingresso. Se si procede per la passeggiata, infatti, ciò che si nota sono ringiere arrugginite e consumate dalla salsedine, alcune parti di cemento a terra sgretolate ed in alcuni tratti con tubi che fuoriescono. Abbiamo sentito il parere dei fanesi a riguardo. Il discorso lì della seduta è una roba studiata molto male perché una persona si mette a seduta lì, deve ammirare il mare, penso, e si trova proprio di fronte agli occhi la traversina della costruzione. Quindi è una cosa studiata molto male. molti vengono con la bicicletta, cosa sarebbe da non fare? Aspettiamo che finiscono le scogliere. Un po' dopo dovrebbero dargli una sistemata anche qua, perché adesso col mare, purtroppo, qui quanto c'è il mare da Levante, porta via tutto. Sì, penso a livello di manutenzione, sì, a livello anche sulle panche, su queste zone qua, sì, pitturare un pochino, sì. Venite spesso a passeggiare qua? Sì, sì. Vi piace? Sì, certo, rilassante, queste belle giornate, sì. Però magari tenuta un po' meglio, farebbe ancora più piacere? Sì, anche l'illuminazione, sì. Abbiamo contattato il vice sindaco ed assessore al demanio marittimo Cristian Fanesi, che fa sapere che la zona del porto e quindi anche la passeggiata dell'Isippo è stata inserita all'interno dell'operazione Waterfront, un concorso di idee per il quale il Comune, circa un anno fa, ha stanziato 100.000 euro con l'obiettivo di riprogettare e riqualificare alcuni tratti del lungomare fanese. L'uscita del bando del concorso, programmata a marzo, avverrà a breve, ma a causa Covid, continua Fanesi, è stata rimandata a data da destinarsi. Continua senza sosta la scia di furti nella città di Fano. Dopo i tre colpi messi a segno nei giorni scorsi in diverse attività del centro storico a finire nel mirino dei malviventi, questa volta è stato il negozio di biciclette Mancini-Guglielmo, situato sulla Flaminia. È accaduto questa notte intorno alle 3, e quando i ladri hanno tagliato la serrande sono entrati dalla porta principale del locale forzandola. Le biciclette rubate sono circa 16, la maggior parte dei modelli erano nuovi e fatti in carbonio. Il valore invece è ancora da quantificare ma monta a parecchie migliaia di euro mentre dalla cassa continua del negozio non è stato sportato nulla. Ad accorgersi dell'intrusione è stato il titolare che abita al piano superiore. L'uomo ha sentito l'allarme attivarsi in piena notte ma una volta sceso nel locale lo ha trovato soccuadro. dei ladri, nessuna traccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fano. Cambiamo argomento. In occasione della festa dei Santi e della commemorazione dei defunti al cimitero urbano di Fano verranno celebrate diverse sante messe alle ore 9, alle 10.30, in questo caso ufficiata dal Vescovo Armando Trasarti, e alle 15.30, sempre domenica e lunedì, alle 15.30, Santa Messa al cimitero dell'Ulivo. A Ferretto invece è in programma alle 15.00 il Santo Rosario e alle 15.30 la Messa. Al cimitero di Sant'Andrea in Villis è alle 14.30, mentre a Carignano alle ore 9.00. Infine, al cimitero di Rosciano verrà celebrata alle 15.00. Le sante messe ufficiate poi a Fossombrone, Cagli e Pergola li troverete sul sito della Diocesi ma anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. E nelle giornate di domenica e di lunedì in occasione appunto di queste ricorrenze i cimiteri di Fanno rimarranno regolarmente aperti dalle 7.30 alle 17.00 e varranno le disposizioni generali previste dall'ultimo DPCM per enormi anticontagio. Il Comune fa sapere che sarà ampliato il servizio navetta. Fino al 2 novembre sarà disponibile non solo la mattina dalle 9.00 alle 12.00 come di consueto ma anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. All'interno delle navette sarà obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le mani prima di salire mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e sottoscrivere l'autocertificazione che verrà consegnata da un operatore. Ed ora parliamo di viabilità perché nell'interquartiere di Fanno sono partiti i lavori di riqualificazione delle rotatorie tutti i dettagli nel servizio di Filippo Pucci. L'avevamo lasciata così da circa un anno e finalmente da mercoledì scorso nella rotatoria di via 4 Novembre che interseca con via Pertini sono partiti i lavori di riqualificazione. Grazie ad un progetto comunale degli anni precedenti l'amministrazione ha deciso di rendere queste rotonde più gradevoli con la piantumazione di erbe a redi moderni e illuminazione come quella realizzata in via Fanella. I lavori partiti questa settimana si concentreranno soltanto nella rotonda di via 4 Novembre lungo gli interquartieri per poi in un secondo momento completare anche quella di Sant'Orso. Ma qual è l'intervento che il Comune ha deciso di realizzare in questa rotatoria? Lo abbiamo chiesto all'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonnelli. Finalmente sono partiti i lavori tanti attesi di questa rotatoria consisteranno nel rifacimento di tutta la zona interna della rotatoria con lo stemma del nostro comune inclinato verso il centro quindi ci saranno delle pietre bianche e rosse che saranno drenanti quindi comunque non impermeabilizzeremo il terreno ma sarà appunto drenante e abbiamo aggiunto a questa rotatoria anche il city brand della scritta Fano che conosciamo nei due lati della rotatoria e diciamo che verrà un lavoro fatto molto bene siamo molto contenti che siano iniziati i lavori che tanto attesi e entro la fine dell'anno dovrebbero finire. Non solo interventi di riqualificazione ma anche di messa in sicurezza del tratto stradale segnalato più volte per la sua pericolosità da residenti e automobilisti. Metteremo in sicurezza quell'incrocio diciamo su via Pertini via 4 novembre arretreremo lo stop quindi non sarà più un dare precedenza ma sarà proprio uno stop metteremo dei dissuasori elettronici lungo via Pertini che indicheranno la velocità dell'auto per insomma avvisare a un rallentamento e metteremo anche delle bande sonore sul diciamo sulla pavimentazione dell'asfalto per appunto far rallentare sempre di più e far accorgere perché lì c'è una fermata uno stop purtroppo non si possono fare lavori più pesanti rispetto a questi perché sarebbe cambiare completamente il disegno della rotatoria e spostare la rotatoria quindi non si poteva fare altrimenti inoltre sempre per ridurre la velocità su via 4 novembre quindi da da quest'altra parte faremo un intervento di senso alternato di moderazione del traffico per appunto mettere in sicurezza i pedoni che attraversano questa zona l'importo dei lavori è circa 30 mila euro sono partite per Firenze la pala che raffigura la Madonna in trono con Bambino e Santi e la lunetta con pietà di Pietro Vannucci detto il perugino di proprietà del comune di Fano ed esposte nella chiesa di Santa Maria Nuova verranno sottoposte ad un trattamento di disinfestazione ed attacco biologico presso il laboratorio del lupificio delle pietre dure usufruendo delle migliori condizioni tecnico-scientifiche oggi a disposizione il Ministero per i beni e le attività culturali in accordo con la soprintendenza delle Marche ha offerto di farsi carico a titolo gratuito dell'intervento nonché di una campagna di indagini diagnostiche e fotografiche questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale tra poco le previsioni del tempo e poi una nuova puntata di Casa Fiorenzo 338 49 68 250 il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni per noi sempre fondamentali grazie per averci seguito buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti